musica uno su ma compare ma compare affio ma compare affio è un po' comunque buono anche per il cecchino si oh ma che cazzo non riesco a ammazzare ah eccolo ucciso ma prima kill è fatto dai apriamo le danze attenzione ah ma siamo 3 contro 2 è brutto ah ecco perché non ne trovo mai lo trovo mi ammazzato ucciso un altro il barriere di esplosivo esplode ah ma è novità mi inghiacceva uno qua la poppice attenzione oh la verità non è morto oddio che è successo che personaggio fiero eh infatti era fiero perché lo sparo di in testa che ma compare faceva le passeggiate se ti piacciono gli alberi oh c'è uno c'è uno qua c'è uno qua c'è uno qua non ti metti in avanti porca miseria ogni volta sparo la testa tua porca miseria eh oh ah no male che non c'è fuoco eh no 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 ah si è ucciso io non ci credo eh gli ho sparato tipo tre oh cinque munizioni nella k vabbè oh è sparato uno guardando a me va gli prendere qualche zainty oddio 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 ogni casino che mi spara ucciso n'ho ucciso era quello eh ragazzi io non ho munizioni munizioni e non obbligato oggi c'era lo zainoli dov'ho dov'ho ucciso io quello lì lì il pietro non pare non io dove sono io? ah eccolo ma lo sparisce tipo ma lo sparisce Dio nooo ho sparito davanti a me non ci credo andiamo a ammazzare quello ok è morto ma vai a parire non c'è il culo vai e prendo le munizioni ok ragazzi pure le munizioni ce l'ho oh non sono morto ancora ce ne sono un bazzo non so come ce l'ho fatto ma dico vero non sei morto con qualcuno ora muovo guarda ucciso ho finito io le munizioni e c'è qualcuno qui dentro eh lo so eccolo so l'ho ucciso ma io non vale devo prendere lo zainoli come faccio a salire aspetta spariamo grande ahahahahahahahahahahah tendo qualcuno ma nooo bravo ragazzi se vedi a usare il giallo c'ho 24 punizioni penso di me migliori ne ho 200 perché non ve lo dice mica tre ore che dico sono senza munizioni l'ho tirato alle piedi ragazzi ma cazzo ho fatto non morire ho ucciso un altro questo perma è pazientissimo dove sei c'è uno zaino qua nella casa non mi entrava nella casa ok ha preso lo zaino quello c'è carica ma c'è la poppe c'è la poppe c'è la poppe qua quanti spesa mazzata bravo oh ma che cazzo è pieno sette kg zero deat sono un pazzo oh mio dio la c'è lo zaino ma non posso rischiare che l'ha detto ma compai stavo facendo fuori ecco ecco c'è un altro grande oh un altro ce n'è eh lo so mi sto nascondendo io sto ricaricando ecco 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 lì sono tutte davanti a me sono ucciso 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 che cazzo ho preso non ho più la k ma che cazzo vuol dire ma dove il cieco non gli sparava ma dai prende un zaino un dubbio un dubbio un dubbio un pezzo di merda sono appena preso ammazziamolo mi metto guardiamolo davanti a te ho recendo via ah lo scudo ok gli è finito ahiaiaiaia io non ho armi non ho la k ci ho preso la k ragazzi ho talmente cioè non sto morendo mai ma c'è uno sopra la torre ma c'è uno penso te n'è un n'è ma c'è uno no c'è uno la sopra ragazzi ho quindici munizioni no c'è uno c'è ragazzi è imbrosellando sto partito no son morto son morto son morto 9 kill 0 death vabbè 13-4 dai c'è ragazzi sono ancora sono alla ricerca di munizioni non ci riesco qualcuno mi ha sapato il culo io l'ho ucciso io già l'avevo ferito un pochino infatti per questo l'ho mozzato o che ce ne ha e son morto col cecchino se non sei quattro io muoio sempre c'era uno no hai un amico mio mi sono cagato addosso da quello con il lagerazzo ma l'ho detto non posso del cecchino forse no ah no ti ho ammazzato quello te l'ho ucciso oh stavolta senza munizioni ma che cazzo è un bai no no non posso morire aiuto 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 ucciso pigliati io lo so vai 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 no mi hanno ammazzato mi hanno ammazzato non ci credo ragazzi che vuole fare munizioni fanculo mi hanno ammazzato uno ora mi hanno ammazzato uno no col fucile a pompa ragazzi non l'ho beccato non lo dobbiamo fare come prima che stiamo insieme ammazzato ucciso 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 c'è il combo che ammazzato dove è l'ho ferito l'ho ferito ma vaffanculo ucciso ucciso dove è dove stiamo imparando no c'è uno lì ne portare quello mi ammazza ucciso ucciso il gol sto morendo a caso no non l'ho beccato c'è la concentration gokudi ucciso eh no mi hanno ammazzato vabbè ragazzi ho fatto 4 volti che sono caduto da solo dalla torre attenzione ok sono di nuovo nella torre sono attenzione vediamo che cosa riesco a combinar ok primo guadalabber primo in classifica attenzione attenzione guarda che carino è troppo forte